Per quanto riguarda i weekend, sì, la situazione ovviamente non è cambiata e non c'è neanche nessuno spiraglio che possa far pensare una riapertura del sabato e della domenica per i centri commerciali. E quindi di conseguenza io ho organizzato la mia attività proprio per lavorare per i cinque giorni. Questo è già una risoluzione di un problema perché ovviamente stando sempre dietro alla speranza mese per mese, stando dietro diciamo a quello che dice il governo di mese in mese non si arriva da nessuna parte, non si può aspettare sempre il prossimo DPCM. Io mi sono organizzato a lavorare cinque giorni e lavoro cinque giorni. I miei clienti ormai sanno che io sono aperto nei cinque giorni e di conseguenza fino adesso è andato tutto bene tra zona gialla e zona arancione. Zona gialla ovviamente mi apriva anche alla provincia, al comune di Pesaro e altri comuni quali Mitrofi e invece nella zona arancione calava un po', diciamo un 40% in meno. Lavoravamo al 60%. Adesso nella rossa siamo andati a finire, come vedete è vuoto, siamo andati a finire al 10% sia della clientela ovviamente e anche della merceologia che possiamo vendere perché siamo limitatissime per quanto riguarda ovviamente gli articoli. Il fine era non avere assembramenti e giustamente ci sono riusciti. Per quanto riguarda il futuro speriamo di uscire dalla zona rossa, prevedo ancora una settimana dopo la Pasqua. Mi sono fatto un po' di analisi grammaticali di quelli che sono gli accadimenti e l'unica speranza, prima penso che sia impossibile. Forse da metà aprile possiamo iniziare a sperare di uscire dalla rossa, vedo che soprattutto nei fronti soccorsi le notizie che vengono non sono delle più felici. Per il weekend no, per il weekend ormai andiamo avanti fino all'estate, non vedo speranze, quindi niente sono così, aspetto. Una desolazione anche perché comunque Natale, ora entriamo nella settimana di Pasqua, due settimane dove il lavoro sicuramente aumenta anche per il materiale che tu qua vendi e la gente non può venire fuori dal comune di Vallefoglia. Sì, una perdita dopo l'altra che però stiamo cercando di gestire, cioè in un modo o nell'altro stando sempre qui un po' a muovere le carte stiamo riuscendo comunque a non, cioè per quanto riguarda, io ho parlato di 40% di perdita quando andavamo in zona arancione e il 10% quando siamo ormai qui nella rossa, però tutto sommato il fatturato sto cercando di tenerlo medio alto, quindi non ho delle grandi perdite, sono contento, cioè sono contento malgrado il tutto di essere riuscito un attimino a gestirmi commercialmente.